Bentrovati ad un nuovo video tutorial firmato FabianBrosi.it Nella scorsa lezione abbiamo visto come inserire un testo in Adobe Premiere Oggi parleremo delle forme geometriche, semplici forme geometriche Facciamo un esempio, ipotizziamo di voler creare un sottopancia Come si fa senza adoperare After Effects per il momento? Bene, lo vedremo tra un secondo www.fabianbrosi.it Sito dove troverete l'indice di tutte le lezioni, di tutti gli argomenti E il corso anche di After Effects Se siete interessati, iscrivetevi a questo canale YouTube Per non perdere anche i prossimi video E mettete un like alla mia pagina Facebook Cercatemi, sono Fabio Ambrosi Bene, detto questo, dopo un po' di promo Torniamo ad Adobe Premiere Dicevo, vogliamo creare un sottopancia Un sottopancia non è altro che un testo con il nome, il cognome Magari la qualifica della persona che stiamo intervistando Bene, abbiamo visto nella scorsa lezione Come noi possiamo inserire un testo Molto semplicemente andando sul nuovo livello Testo Inserendo il testo che vogliamo far vedere Per esempio Mario Bianchi Non fate caso al font Non l'ho scelto ancora Ma ipotizziamo che questo è il nome del nostro intervistato Anzi, cambiamo il font Via Così vediamo anche come si modificano Rivediamo meglio ancora Come si modificano i font Ecco qua Abbiamo il nostro nome e cognome Ma ipotizziamo di volerlo Come dire, incorniciare con un rettangolo Perché ci piace Facciamo un esempio Come si inserisce un elemento grafico Una forma geometrica semplice in Premiere Bene Aggiungendo un nuovo livello Preciso Il fatto di selezionare o non selezionare questo livello Quando si aggiunge un nuovo livello grafico È molto importante Perché se io adesso vado ad inserire Una forma geometrica Con questo elemento grafico selezionato Andrò ad inserire un nuovo livello Dentro a questo stesso livello elemento grafico Ma se io adesso Quando vado a creare la forma geometrica Tra breve vi farò vedere come Non ho selezionato questo elemento grafico Io andrò a creare un nuovo elemento grafico Ok? No? Ok Ve lo faccio vedere così capite Voglio inserire un rettangolo Che incornici questo testo Quindi seleziono in questo caso L'elemento grafico inserito prima Se non ce l'ho ovviamente Basta che seleziono la timeline Vado in grafica Nuovo livello E scelgo rettangolo Ecco abbiamo un rettangolo Ovviamente come potete vedere Avendo selezionato L'elemento grafico Creato precedentemente Il rettangolo vi viene inserito come livello All'interno delle proprietà Dell'elemento grafico di prima Quindi posso per esempio Eliminare il riempimento Aggiungere un bordo Il bordo posso farlo sempre Arancione per esempio Posso fare un bordo Anche un pochettino più spesso Ok? Posso ridimensionarlo Questo rettangolo Vedete? Posso fare delle semplici modifiche Non aspettatevi chissà cosa Magari un po' troppo spesso Questo bordo Ecco qua E abbiamo creato Il nostro primo sottopancia Con un testo E con un elemento Un elemento grafico Un elemento di una forma geometrica Semplice In questo caso un rettangolo Vi dicevo prima Che se non selezionate Un elemento grafico preesistente In timeline E andate ad inserire Ancora una volta Un altro rettangolo Vedrete che se non ho selezionato nulla Come in questo caso Tranne che ovviamente la timeline Quando vado a fare Grafica Nuovo livello Rettangolo Vado a creare un nuovo Un nuovo elemento grafico Quindi il selezionare O non selezionare L'oggetto in timeline E' importante Ok? Se io vado a selezionare Questo oggetto grafico E aggiungo cose Anche altri testi O piuttosto che altre forme geometriche Aggiungo tutto qui dentro Se non ho selezionato Questo elemento grafico Meglio ancora Crea un nuovo elemento grafico Oh! Questo è come Si creano forme geometriche Semplici In Premiere Chiaramente posso andare a creare Anche non so Un'ellisse Per esempio Sono forme geometriche Molto semplici Che comunque possono essere Personalizzate Perché come ho già spiegato Nella scorsa lezione Animazioni più complesse E grafiche più complesse Devono essere realizzate Utilizzando altri strumenti Come per esempio After Effects Nel prossimo video tutorial Parleremo della Motion Graphics Dei template Motion Graphics Della grafica Essenziale Anche che è un nuovo strumento Introdotto di recente Nelle ultime release Di Adobe Premiere Pro Grazie www.fabioambrosi.it Per tutte le informazioni Per gli articoli Ovviamente anche di queste lezioni Cercatemi su Facebook La pagina è Fabio Ambrosi Iscrivetevi a questo canale Se vi fa piacere Ovviamente Grazie mille Al prossimo video tutorial Ciao